Dal titolo di Ero in acqua, sal e acqua, è una cosa molto particolare, sonata totalmente dal titolo, come ve li presenteremo da dei percussionisti special guest del programma nazionale, è qualcosa di molto particolare che affronterà alcune delle danze in Europa, dalla fenotrafia del maestro Yeltsin Davo Martírez e del maestro Leonardo Magrini, direttore musicale special guest con questo, la penicola, signori e signori, la show della Santa Cubana, Fiano di acqua! Grazie a tutti! 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 Iniziamo Buon appetito! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Poi voglio presentare un altro personaggio famoso nel Lazio, che non sono, Tonino Perenno. Poi voglio presentare un altro personaggio famoso nel Lazio, che non sono, Tonino Perenzo, che non sono, Tonino Perenzo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.